Sono le 10.09.10, io sono Francesco Piperis e vi do intanto il buon giorno, il buon inizio di settimana, il benvenuto al Salone Internazionale del Libro di Torino in questo lunedì 13 maggio 2024. Anche oggi come usualmente succede a quest'ora, io Francesco Piperis prendo la linea da Alessio Lerda, da Play per provare a raccontare il mondo della cultura sempre a 360 gradi e con uno sguardo all'attualità, insomma al mondo in cui viviamo, insomma che non possiamo e non vogliamo tra l'altro dimenticare. Oggi è l'ultimo giorno della 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino sotto la guida per il primo anno della direzione editoriale di Anna Lena Benini e qui ad almeno due pagine al giorno siamo a raccontare ancora con alcuni ospiti dei pezzi di mondo della cultura che ci appassionano particolarmente. Ma intanto, dopo i convenevoli iniziali, io sono veramente molto felice di dare nuovamente il benvenuto ad almeno due pagine al giorno a Pino Pace qui accanto a me. Ciao Pino, buongiorno. Ciao Francesco, grazie di nuovo per l'invito e grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ma intanto è sempre un piacere, lo dicevamo poco fa a Forionda e lo dico ai nostri ascoltatori, spettatori, è sempre bellissimo entrare in contatto con Pino Pace, un autore prolifico di libri... Pure troppo, no, mai troppo e poi tra poco avremo modo di parlare di un pezzo diciamo della produzione di Pino Pace, diciamo autore per ragazzi che è sempre più in realtà una definizione limitante. Pino, partiamo da qua oggi, prima di cominciare a parlare anche delle ultime cose che hai pubblicato, perché sembra che insomma questo luogo comune dell'autore per ragazzi sia, come dire, un mondo editoriale che sta nell'angola, invece i numeri dicono tutt'altro. I numeri sono molto più alti dell'editoria, diciamo quella tra virgolette ufficiale, no Pino? Sì, non in assoluto, poi generalizzare è sempre sbagliato, però comunque l'editoria per ragazzi ha dei numeri notevoli, notevoli devo dire, no e quindi sì, noi comunque siamo anche autori, noi non ci facciamo problemi poi a sconfinare nel mondo degli adulti, certe volte neanche ce ne accorgiamo poi in qualche maniera, no? Perché ci sono dei libri che possono leggere i ragazzi, ma possono leggere veramente tutti quanti e questo ogni tanto è una sorta di definizione di comune. Altre volte invece è vero, tu qui hai portato gentilmente dei libri, no? Che sono per ragazzi, non sono per ragazzi, non lo so. E invece poi c'è tutta quanto un'editoria, diciamo per adulti, no? Che si concede qualche sortita nel mondo dell'editoria per ragazzi, dell'editoria per ragazzi e sembra quasi una sorta di concessione, un indebolimento, no? Cioè scrivo per adulti, però mi sono concesso anche questa cosa qua. E invece secondo me sono mondi che si parlano, che dovrebbero parlarsi forse un pochino di più e che per quanto mi riguarda questa distinzione veramente significa molto poco. Tu dicevi prima che io sono uno che pubblica tanto ed è vero. Io ho questa fortuna però che ho sempre fatto cose che a me piacciono ed è la mia unica bussola quella. E poi mi rendo conto che, visto che non sono più una persona giovane, è una bussola molto così di parte. Però comunque io mi devo basare su questo, fare libri che a me piacciono e provare a vedere se in qualche maniera piacciono anche agli editori e anche ai lettori. Tra l'altro tu dicevi poco fa di alcune incursioni al contrario invece da autore per ragazzi nel mondo della letteratura per adulti. Perché se ci seguite con una certa costanza sin da quando almeno due pagine al giorno era una trasmissione settimanale in cui per un'ora tenevamo diciamo ai nostri microfoni un autore e Pino è stato uno di quelli diciamo a inaugurare almeno due pagine al giorno all'interno di RBE. Abbiamo parlato di libri che insomma hanno fondamenti che affondano le radici in maniera molto forte e molto solida dentro il mondo degli adulti anche perché se io cito Mamma in polvere, Fuori di galera, anche L'ultimo elefante che entra dentro la storia se vogliamo o no evidentemente ci racconta poi con la penna sempre molto arguta, molto attenta, molto efficace di Pino Pace insomma ci porta dentro il mondo degli adulti. Però noi oggi vogliamo raccontare un'altra diciamo un'altra incursione nel mondo della poesia della poesia breve, correggimi se sbaglio, perché intanto io da quando ci siamo visti l'ultima volta per parlare di questo libro Poesie per gente che va di fretta, scritto con Chiara Lorenzoni per Marcosi Marcosi ho provato a scrivere ai cui i risultati sono stati disastrosi io ho provato diciamo a raccogliere il tuo invito a scrivere ai cui i risultati sono stati disastrosi in realtà Pino Pace frequenta il mondo degli IQ ormai da diversi anni aveva pubblicato anche questo libro, IQ in bicicletta, Notes Edizioni io le faccio vedere le copertine perché questa è la bellezza anche di fare la tv e poi ancora prima se non sbaglio Un gatto nero in candeggina finì 35 IQ per bambini di ogni età sempre Notes Edizioni. Questo diciamo erano i primi libri o insomma alcuni dei libri sugli IQ perché da pochissimo invece sempre per Marcosi Marcos e sempre con Chiara Lorenzoni Pino Pace ha scritto come un germoglio di bambù in viaggio con Basho Samurai degli IQ questa volta in realtà in quest'ultimo libro Pino ci sono gli IQ quasi come dire a cadenzare i capitoli che poi non ci sono perché è un'unica storia però in realtà questa volta tu racconti la storia di questo maestro se vogliamo, no? Che si porta dietro un discepolo, so ora, no? E' una storia assolutamente disarmante per la sua semplicità diciamo che però la dice lunga e credo sia una scelta interessantissima questa qui rispetto invece alle ipercomplicazioni del tempo presente diciamo perché questa volta con Chiara Lorenzoni avete deciso come dire di andare ma davvero questa volta all'essenziale? E' perché la IQ è una poesia essenziale comunque, no? E' proprio una poesia di tre versi, di 17 sillabi dove ci devi mettere tutto quello che è importante in quel momento da dire, da fare e 17 sillabi non sono tante, sono poche e a noi questo libro ce l'ha chiesto l'editore di fare a me e a Chiara Lorenzoni io e a Chiara Lorenzoni come dicevo abbiamo fatto insieme Poesie per gente che va di fretta che è un libro soprattutto di Chiara, lo devo dire perché perché lei ci credeva molto, io ci credevo un pochino di meno perché ho detto ma figurati chi ci pubblica delle poesie di... No, invece Marco Simarcos ha visto lontano perché peraltro è un libro che va molto bene e quindi ha preso questo libro e poi ci ha chiesto di fare quest'altro libro qui in quest'altro libro qui, come un germoglio di bambù io e Chiara Lorenzoni abbiamo raccontato la vita di Matsuo Basciò che è considerato uno dei creatori del laiku, no? di questa poesia breve, poesia sintetica e abbiamo fatto in questa maniera io alla fine ho fatto una prima stesura lo dico perché fa parte un po' dello spirito del laiku avevo scritto questa prima stesura che mi sembrava molto completa molto adatta a un pubblico giovanile anche qui giovani ma anche adulti può andare bene e poi Chiara ha preso questo testo e l'ha rivoltato veramente come un guanto e secondo me funziona meglio così e ecco questo è un po' anche il senso di scrivere queste poesie in due guarda secondo me laiku è una poesia molto bella l'avevamo messo nella postfazione a questo libro qua dove ho citato questo autore giapponese che è così in qualche maniera Natsume Soseki che è considerato il creatore della letteratura giapponese contemporanea che parla delle poesie brevi e dice non vi preoccupate del fatto che sia così semplice scrivere una poesia come un laiku anzi questa qui è segno di grande importanza che ha questa poesia laiku è una poesia vera è una poesia semplice che però possiamo scrivere tutti io ti direi guarda tu hai provato ti direi di riprovare ancora ma ci provo da me evidentemente però è un'operazione come dire di condensazione intanto passano anche amici autori ed è bellissimo insomma salutare anche meravigliosamente Daniele Aristarco che è stato nostro ospite già da poco da poco e che ci ha dato una mano anche nell'ultima newsletter per cui è bellissimo questo diciamo questo mondo proprio per questo ciao ciao ragazzi ci ho provato dicevo ma in realtà è tutto molto molto complesso perché in realtà è come dire la poesia all'essenziale però insomma ci vuole anche un po' di talento o no? guarda sì ci va però oppure no perché il primo libro che hai fatto vedere è Un gatto nero in candeggina a finire sono poesie che veramente questo è il primo che avevo scritto e davvero ho provato a dire ma queste cose possono interessare i bambini la risposta è stata sì quello è un libro che ha 15 anni quasi e continua ad andare in giro e i bambini sono quelli che gli aiculi capiscono veramente in pochissimo tempo e a me questa cosa mi ha sempre portato avanti cioè nel senso che ogni tanto c'è qualcuno che mi dice ma era che l'aico ha delle regole molto stringenti così io sono d'accordo le conosco qualche volta le applico qualche volta non le applico quando sono con i bambini non le applico perché i bambini trovano la loro maniera di fare queste cose e poi comunque in ogni caso la resa estetica l'incanto la bellezza di queste poesie esiste veramente cioè sei uno scrittore irregolare di IQ assolutamente ma assolutamente no ma secondo me è un po' il punto di forza di questa poesia non possiamo continuare a scrivere come nel 1600 scriveva Basho anche se Basho ha fatto tutto cioè lui ha detto questa è la via poi ognuno la segue a suo modo secondo me quando vai in una scuola la fai in un'altra maniera io queste poesie le ho fatte in lingue non in italiano le ho fatte in alcuni dialetti si possono fare veramente in tante maniere diverse ed è per quello che tra l'altro è l'unica poesia che io mi mi sento di avvicinare io invece l'altra poesia quella diciamo occidentale lì faccio un po' fatica davvero e i risultati quando ho provato non sono stati buoni qui ogni tanto secondo me qualcosa di decente c'è ecco in maniera molto immodesta però la lettura di come un germoglio di bambù in viaggio con Basho samurai degli haiku ribadisco scritto da Pino Pace con Chiara Lorenzoni è pubblicato da Marcos Simarcos però ci dà anche delle indicazioni rispetto anche al tempo presente perché mi fai dire che dal mio punto di vista questo è anche un inno alla pace perché a un certo punto si parla di linguaggio delle armi in quel caso il linguaggio della spada no? e invece la potenza al contrario la potenza delle storie perché si parla di inchiostro come uno strumento per raccontare storie che è quello di Basho rispetto alla spada perché c'è un personaggio che vuole diventare samurai e che è affascinato dalla spada dico soltanto questo invece si legge in questo libro che la spada invece parla di sangue il sangue in realtà ho sbagliato anche a dire non parla ma urla diciamo in questo tempo in cui ne parlavamo anche qualche giorno fa con altri ospiti all'interno di questa trasmissione abbiamo la guerra sostanzialmente in casa diciamo è anche un atto di coraggio se vogliamo questo libro semplice ma lo dico con grande rispetto diciamo Pino sì sì no questa è una storia minima racconta di Basciò e di Sora che era il suo amico collaboratore così la persona con cui si accompagnava una delle persone con cui si è accompagnata Basciò è stato un grande viaggiatore un grande girovaco dove andava a raccontare poi la sua maniera di poesie che arrivano in questa casa di questo contadino e questa bambina che si prende un po' cura di loro che porta un pasto caldo nel fienile dove si sono rifugiati per passare la notte e arriva a contatto con la poesia questa bambina è una bambina diciamo che a noi piace molto come carattere perché è una bambina che dice io voglio fare la samurai ha questa voglia di affermarsi cosa che tra l'altro nel Giappone di quel tempo ma come in molti altri posti anche qua fino a non tanto tempo fa era considerato comunque come un atteggiamento in qualche maniera non consono alla vita che si menava in quegli anni eppure questa bambina ha questo desiderio di rivalsa e quella notte però succede una cosa strana perché loro non è che castrano questo desiderio però probabilmente lo spostano da un'altra parte anche quello delle lettere era un mondo come quello dei samurai quello delle armi dietato comunque le donne ecco e invece loro li fanno conoscere questo mondo qui e dice il sangue no urla invece l'inchiostro dice delle cose e c'è anche tutto quanto questo discorso il Giappone è un mondo estremamente interessante anche della scrittura giapponese che ha molto a che fare anche con il disegno ha molto a che fare con questi gesti che sono gesti antichi ma sono gesti unici che vengono esercitati negli anni c'è anche tutta quanta questa pratica della scrittura che a differenza dalla nostra che prendiamo appunti scriviamo disordinatamente è anche un elevatissimo senso estetico ecco quindi mi piaceva che questa bambina in questa casa sperduta figlia di contadini venisse a contatto con questo mondo e chissà che cosa lascia poi però secondo me è anche questo tu dicevi prima anche la pace anche la testimonianza che possiamo fare noi con dei piccoli gesti è una cosa importante riguardo la pace noi lo facciamo davvero non siamo nessuno lo facciamo come siamo capaci di fare quindi anche magari mettendolo dentro un libro e poi anche un'altra bellissima sfida di questo libro si possono cogliere secondo me tantissime piccole perle perché si parla di viaggio perché stiamo parlando di un viaggio ci sono i nostri protagonisti che viaggiano che sono che insomma per recuperare un senso se vogliamo devono essere disposti a perdersi questo elemento del perdersi in questo momento secondo me in cui siamo spersi davvero diciamo credo che sia prezioso perché è un perdersi che ha un fondamento un perdersi per ritrovarsi adesso non voglio fare filosofia da supermercato diciamo però trovo questo elemento un elemento preziosissimo dentro l'economia consentimi l'espressione di questa storia diciamo legata agli haiku tu ti sei perso scrivendo i tuoi haiku ti sei ritrovato viaggiando con la tua amatissima bicicletta allora beh guarda alla fine scrivere poi è veramente un perdersi ogni tanto cioè faccio un po' fatica a dire no ma non faccio fatica invece so esattamente ogni volta che si inizia a scrivere una cosa si deve essere disposti a perdersi nel senso che non si sa esattamente dove si andrà anzi io però amici amiche colleghi e colleghe di scrittura che in qualche modo che in qualche modo sanno esattamente all'inizio dove andranno invece per me la scrittura è un'immagine un'idea qualcosa e poi l'inizio di un cammino ma dove stai andando veramente non lo sai e non sai neanche se arriverai a destinazione cioè a farne qualcosa di questa storia qua anzi certe volte non vai proprio da nessuna parte perché ti perdi per strada ti perdi totalmente e quindi passi a un'altra storia fai un'altra cosa però devi essere disponibile e c'è anche proprio un po' questa paura di perdersi all'inizio perché certe volte quando tu hai una storia che pensi che sia una bella storia e cominci a scrivere e dici adesso vabbè ho scritto una pagina me ne mancano 300 quando arrivo a destinazione capisci quindi c'è un po' quest'ansia del destino di quest'opera che è perso da qualche parte tra l'altro ti sarai perso almeno 50 volte visto che hai scritto 50 libri diciamo e quindi è un esercizio continuo diciamo di perdersi e ritrovarsi ogni libro però è un percorso diverso ci sono i viaggi in montagna i viaggi al mare quelli comodi quelli in corriera quelli a piedi quelli dove ti devi inerpicare anche quello lì ognuno è stato un viaggio diverso comunque alcuni sono stati comodi alcuni sono stati scomodi alcuni sono durati anni facendo molte altre cose in mezzo naturalmente però è così sì la metafora del viaggio secondo me regge molto bene quando parliamo di scrittura allora intanto manca diciamo manca ancora qualche minuto e possiamo però spenderlo molto bene compino tutti i minuti sono spesi bene a parte il fatto che c'è una storia legata anche a questi volumi dicevi di bestiace che compie 15 anni è uscito nel 2010 l'anno prossimo fa 15 anni ma sarebbero già adesso perché nel 2009 l'avevamo fatto e quindi è uscito poi nel 2010 per cui le incredibili avventure di Sam Collan e del professor Pico Pane poi c'è stato un Pico Sauri dopo ma prima c'era un Universo per esempio noi abbiamo io e Giorgio Sommacal che ha fatto le illustrazioni e con me abbiamo scritto insieme veramente queste storie qua le abbiamo pensate ce le siamo rigirate ce le siamo rise nel senso che mettevamo le cose che piacevano a noi e sì abbiamo inventato questi due personaggi che vanno in giro per un pianeta Terra un po' diverso da quello che conosciamo e scoprono degli animali che non esistono e gli animali che non esistono sono fatti dall'unione di due animali che esistono quindi sono esseri tipo la Mucchioccio il rinocerocchio ecco questi esseri qua la Cammellula eccetera il Pinguistici il Pinguistici abbiamo girato tutto il mondo veramente non l'abbiamo lasciato nessun posto non esplorato abbiamo scoperto questi esseri qua è un libro per bambini e ragazzi assolutamente ma volendo ci abbiamo giocato anche con gli adulti quando sono disposti a mettersi in gioco ed è un libro che piace ancora molto perché i bambini e i ragazzi prendono questo libro per quello che è cioè è una sorta di gioco da dove è possibile poi inventare zoologie fantastiche cioè animali che non esistono che avranno determinate caratteristiche abitudini maniere di muoversi di comunicare di gesticolare eccetera per cui davvero è diventato un micro universo ecco noi a Bestia ci abbiamo messo un universo dove gli stessi due personaggi che poi siamo io e Giorgio Sommacal travisati vanno in giro nello spazio e poi tornano dietro nel tempo a scoprire dinosauri che nessuno ha mai visto intorno a questi libri fate anche incontri laboratori immagino che insomma io ho assistito anche a qualche tuo laboratorio intorno a Bestiace l'entusiasmo diciamo dei partecipanti è sempre debordante no Pino? sì 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 no assolutamente anzi adesso oggi proprio mi sembra le 13.30 in uno spazio di edizione a Stragalo scusami ne approfitto per dire ci sarà questo incontro è il posto giusto ci sarà questo incontro su un libro che deve ancora uscire che si chiama Dove è Paolino con le illustrazioni di Giorgio Sommacal edizione a Stragalo e farò un incontro con i ragazzi il libro deve ancora uscire perché abbiamo avuto qualche problema di tipo logistico però comunque oggi faccio una presentazione e chiederò ai bambini in qualche maniera di darmi una mano a fare questo libro che ancora non c'è che meraviglia un libro che nasce dentro il salone del libro è il massimo della vita diciamo è la quadratura del cerchio a proposito di animali è uscito qualche tempo fa per edizioni Gruppo Abele Animalicomio Pino Pace con Davide Panizza ancora insomma avete avuto a che fare con gli animali anche qua dentro come dire un mondo diciamo abbastanza folle legato agli animali allora queste sono filastrocche esatto questo è un libro che prima avevi fatto la metafora del viaggio che non lo so cioè è un libro che ogni tanto ne scrivevo una non sapendo bene cosa ne avrei fatto ma così ma anzi non c'era neanche l'idea poi a un certo punto ecco ma questo deriva dal mio grande amore per un autore italiano che si chiamava Totiscialoia che ha scritto dei libri meravigliosi di filastrocche molti sugli animali e così che a me ragazzo e giovane mi avevano incantato proprio per la loro immediatezza la loro velocità Charlotte aveva qualcosa dell'aiku pur non essendo haiku però aveva veramente questa fulminea questa capacità di colpire con tre righe ed erano storielle divertenti erano spassose surreali davvero incredibili e qui di qualche maniera adesso veramente ho citato una persona che sta molto in alto le mie sono molto più così molto più prosaiche però diciamo che è nato un po' in questa maniera qua perché ho iniziato a raccoglierli dopodiché li ho messi insieme e ho detto adesso vediamo se riesco a farne un libro le edizioni di gruppo Abele hanno recepito questo messaggio mi hanno affiancato Davide Panizza che è un ottimo illustratore bolognese e quindi è nato un po' questo librettino che è uscito l'anno scorso mi pare così ed è anche questo un libro che io porto molto volentieri in giro per le scuole perché funziona bene abbiamo ancora più o meno due minuti e mezzo perché tu mi hai segnalato quando abbiamo concordato questo incontro di cui ti sono davvero ancora molto molto grato mi avevi segnalato anche altre uscite diciamo tra la fine dell'anno scorso credo l'inizio di quest'anno ma soprattutto la fine dell'anno scorso perché voglio segnalare anche per voi che ci seguite anche sul canale 87 del Digitale Terrestre o sul sito in streaming su rbe.it Carolina e la Corona pesantissima per Gabi Books con Mattia Cerato io te li cito e tu mi dai diciamo a spot una frase lo so che insomma non si fa però insomma con te insomma io starei a parlare per tutto il giorno ma non possiamo farlo però i titoli voglio segnalare di Bianca Lieve e i Sette Nani per Giunti e i Sette Cani e i Sette Cani e i Sette Cani è imperdonabile questo errore qua Giunti Editore e ancora per quinto quarto Rotte del mare storie di acque e terraferma sempre del 2023 cosa mi dici? Allora no Carolina e la Corona pesantissima è un'idea che ho avuto con Mattia Cerato che è stato un mio allievo dello IED tanti anni fa che è un illustratore veramente molto in gamba è questa ragazzina che è eredita una Corona pesantissima quindi sai il peso un po' della responsabilità se vogliamo fare la metafora è distribuita da Gabi Books che non ha una distribuzione libraria diciamo convenzionale ma ha dei suoi canali per distribuirli Bianca Lieve e i Sette Cani è un gioco che io faccio spessissimo con i bambini quella di prendere una favola una fiaba e farla diventare un'altra cosa mi piaceva molto questa giochi di parole ma poi è venuta fuori una Bianca Lieve che non è più Biancaneve una Bianca Lieve molto femminista ecologista così contro gli stereotipi e questi Sette Cani le danno una bella mano Rotte di mare invece è un libro enciclopedico davvero ci ho messo dentro le rotte sul mare sono infinite e questo è un libro di divulgazione ho dovuto studiare tantissimo per scrivere questo libro ho avuto un libro anche molto spesso che io di solito non li faccio ci ho messo tanto tempo però è un libro che a me piace moltissimo perché tutte le avventure degli esseri umani Via Mare veramente sono un'epopea che dura da migliaia di anni e alcune storie davvero ho notato che sono molto sconosciute per esempio finisco la colonizzazione dell'oceano pacifico da parte dei Lapita i Polinesiani è una di quelle cose incredibili della storia umana davvero e conoscono veramente in pochi perché ha qualcosa di incredibile noi qua viaggiavamo sulle barchette e loro facciano migliaia di chilometri in mezzo all'oceano così persi nel nulla e noi non riuscivamo veramente altro che andare in America avevamo già fatto tutto loro ma si erano spostati di migliaia e migliaia e migliaia di chilometri veramente impressionante quindi vabbè poi ci sono tantissime storie anche piccole però che raccontano di molti viaggi che gli esseri umani hanno fatto via mare ovviamente Pino io non voglio chiederti a cosa stai lavorando adesso anche perché non avremmo il tempo e tu giustamente sei tenuto a come dire a non raccontarci niente però ovviamente come sempre l'impegno insomma le porte di almeno due pagine al giorno sono porte girevoli uno te ne posso dire assolutamente perché è la prima volta che lo faccio ho fatto un libro silenzioso che si chiama Forte il Vento Forte che uscirà a giugno per Boomy Books che è un piccolo ma molto deciso editore anzi è un editore è una signora e Forte il Vento Forte che ho fatto con un'altra mia ex allieva che si chiama Irene Frigo e quindi si scrivono anche le storie dove non ci sono parole lì c'è solo il titolo praticamente però è una storia che ho scritto io e che Irene ha illustrato da par su e noi ne torneremo a parlare anche di questo molto valentieri ancora come sempre del appassionato e appassionante lavoro di Pino Pace Pino noi siamo in coda a questa conversazione io ti ringrazio molto di essere stato qui con noi da almeno due pagine al giorno spero sia stato un buon tempo anche per te e speriamo di vederci presto intanto noi ci fermiamo per l'infotraffico muoversi in Piemonte per il GR di Popolare Network tra poco saremo in compagnia di Paola Cereda tra poco grazie